È essenziale per noi comprendere e riconoscere la natura della nostra connessione con il momento presente. Il momento attuale in cui ci troviamo, chiamato, adesso. Ha un significato profondo. È fondamentale abbracciarlo, apprezzarlo e, perlomeno, accettarlo per quello che è. Il momento presente esiste già. Esattamente come dovrebbe. E nessuna quantità di discussione mentale può cambiare la sua realtà. L'essenza delle cose. La verità fondamentale dell'esistenza. È già stata stabilita ed è l'unica realtà di tutta la nostra vita. È essenziale cogliere questo concetto a un livello più profondo. Al di là della mera comprensione intellettuale. Richiede una profonda consapevolezza che ogni aspetto della nostra esistenza si svolge nel momento presente. Sfortunatamente, molte persone vivono la loro vita come se il futuro fosse di maggiore importanza. Che sia tra un minuto, domani o anche tra anni, le persone danno costantemente la priorità ai momenti futuri rispetto a quelli presenti. Questa mentalità è spesso radicata nel loro pensiero. Derivata improvvisamente e inconsciamente dal condizionamento sociale. Una convinzione culturale che perpetua l'idea che qualcosa di più significativo stia per arrivare. Spingendoli a lottare costantemente per un futuro ritenuto più prezioso. Tuttavia, questo modo di vivere è disfunzionale e li priva della possibilità di essere pienamente vivi e presenti. Rimangono in un perpetuo stato di ricerca senza mai sentirsi veramente a casa. Invece di abbracciare la ricchezza del momento presente, desiderano perennemente la realizzazione in un futuro che potrebbe non arrivare mai. Men mano che le persone invecchiano e si rendono conto che il futuro è limitato, la tensione si sposta sul passato, generando un costante rimuginare tra gli anziani. Tuttavia, quando ci allineiamo con il momento presente, si verifica un profondo cambiamento nella coscienza. Questo cambiamento, sebbene apparentemente semplice, ha una profondità e un significato immensi. Abbracciando il momento presente, trascendiamo i limiti dei nostri modelli di pensiero condizionati e ci apriamo a un nuovo regno di consapevolezza. Diventiamo intimamente connessi con la bellezza e la saggezza della vita mentre si dispiega costantemente davanti a noi. Questo profondo cambiamento produce un senso di pace interiore e ci permette di sperimentare la profonda semplicità e bellezza della vita. In sintesi, riconoscere l'essenza delle cose e abbracciare con tutto il cuore il momento presente è trasformativo. È un invito ad entrare in uno stato di profonda consapevolezza e accettazione, dove risiede la vera realizzazione. Riconoscendo l'immenso valore del momento presente, ci liberiamo dai vincoli della ricerca incessante del futuro e, così facendo, ci ritroviamo pienamente vivi, radicati nel presente e capaci di sperimentare l'immensa profondità e bellezza dell'esistenza. Questo cambiamento di coscienza, apparentemente semplice, ha il potenziale per trasformare profondamente le nostre vite. Il cuore della nostra vita comunitaria ruota attorno a un profondo cambiamento di coscienza, che comporta un processo di trasformazione dentro di noi. E la maggior parte di coloro che ascoltano questo video sono qui perché questo cambiamento è già in atto. Riconosci la trasformazione in corso della coscienza dentro di te. E questo significa che hai il desiderio di approfondire e accelerare questo processo. Per descrivere questo fenomeno si possono usare termini diversi, come, risveglio della coscienza, o, risveglio spirituale. Concetti profondamente radicati in varie tradizioni spirituali nel corso dei secoli. Per comprendere questo cambiamento, dobbiamo prima riconoscere che lo stato ordinario di coscienza per la maggior parte degli individui è una sorta di esistenza onirica. Uno stato di semicoscienza. Tuttavia, anche nelle giornate più movimentate, è sempre possibile concedersi momenti di presenza. E se siamo troppo occupati per permettere questi brevi momenti, dirigendo la nostra attenzione al respiro, iniziamo a coltivare la consapevolezza del nostro essere interiore e ad impegnarci nella pratica dell'essere presenti. Questa integrazione dell'essere nel fare si fonde gradualmente, armonizzando le nostre azioni con il nostro stato d'essere. Inoltre, nella nostra routine quotidiana, ci sono numerose opportunità per coinvolgere la consapevolezza nelle nostre attività. Queste azioni abituali possono diventare porte di presenza, non più mezzi per un fine. Ad esempio, lavarsi le mani in bagno può diventare un momento di assoluta presenza, sentire l'acqua, il dolce profumo del sapone e coinvolgere pienamente i nostri sensi. In questo modo, abbracciamo il momento presente e creiamo un elenco di queste attività quotidiane che ci permettono di cogliere intenzionalmente queste opportunità per infondere momenti di presenza anche quando siamo nel bel mezzo dell'azione.